La sua vantropata, inadeguata, non vi somiglia più. Allora che aspettate? Veniteci a trovare. Vi promettiamo grandi trasformazioni, un cambiamento radicale nella vostra anonima esistenza. Face off, una faccia per ogni esigenza. Per i latitanti e i politici, sconti fino al 70%. Vi aspettiamo! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Tanto per questo un gran successo adesso hai. Per lui e per me è davvero un bel momento. Posso mettere di scannarti, umanità. E stupri di violenze, il mondo è pieno. Il credere di l'agra ovunque fai, taglieggiatori, ladri e trafficanti, i nostri complimenti pure a voi. Ci distinguiamo dannati come siamo, spietati non invietreggiamo. Questo tu lo sai. Questo tu lo sai, determinati effetti in fondo. Vi prego. Vi prego, malediteci anche voi. E viva. E viva me. E viva me. E viva me. Arrivo adesso da una rissa familiare. Oltre alle bestemmie agli improperi si sono avvicendate botte da orbi e qualche coltellata. Io quando mi ci metto realizzo capolavori. Tu, Adamo, ce lo facciamo un selfie. Tu lo sai che uno scatto con me sui social può significare per te l'immunità totale. E poi, Adamo caro, meglio con me che contro di me. Ciao. A insultarci presto. Un peccatore incallito. Neanche un po' fallito. Ti è. Matilde. L'ho già presa a canossa. Lucrezia. Più che Borgia fu un'orgia. Benelope può aspettare. Arianna. Beh, quando ti attacca il filo, son dolori. Giovanna d'Arco si è scoccata a tutte le frecce per conto suo. Ma io quasi quasi torno da Eva, che sono secoli che la tradisco. Poverina.